Quali le sfide oggi per il settore agricolo? Il settore agricolo diventa sempre più centrale in un'ottica di produzione interna per quanto concerne la sicurezza dati ai cittadini, ma anche in un ruolo internazionale, geopolitico, nel dare possibilità alle popolazioni a noi vicine di avere uno sviluppo simile a quello che abbiamo avuto noi, ma soprattutto nel creare valore economico. Sotto questo punto di vista l'agricoltura italiana è sicuramente il punto di riferimento a livello globale anche in termini di sostenibilità, ma dobbiamo lavorare ulteriormente per quanto riguarda il valore economico che resta all'interno delle nostre imprese agricole. Su questo molto potremo fare utilizzando le risorse del PNRR, innovando in termini di agricoltura di precisione, nell'utilizzo di droni, satelliti, in tutto ciò che riguarda la sensoristica, nelle forme di certificazione dei prodotti tramite la blockchain, il QR code, per dare le giuste informazioni ai consumatori e ai cittadini di tutto il mondo. Quindi noi puntiamo a sostituire nell'arco di 6-7 anni quello che è l'Italian Sounding, in termini di valore legato all'esportazione, con il vero prodotto agroalimentare italiano. Presidente, qual è oggi il ruolo di Empaya in una situazione economica come quella attuale per il mondo agroalimentare? Ma Empaya gioca un ruolo centrale per quanto riguarda la sicurezza che viene data a quelli che sono i nostri collaboratori, quelle che sono le persone che sono oggi inserite all'interno di un contesto agricolo, agroalimentare e soprattutto è un ente gestito particolarmente bene proprio per quanto concerne le risorse economiche che vengono destinate in termini di investimento, in termini anche legato a percorsi di formazione che diventeranno sempre più importanti nei prossimi anni. È chiaro che Empaya deve giocare una partita con altri soggetti, tutto il tema universitario, tutto il tema degli investimenti sull'innovazione, la sicurezza sul lavoro, noi riteniamo che siano temi sicuramente centrali.